Exoraptics, oggi vi presentiamo un arrivo molto interessante. Parliamo di Mercedes A250 1.3 Hybrid da 160 CV in allestimento Premium Plus con cambio automatico. Vettura che abbiamo ritirato immatricolata a luglio del 2021 con soli 26.500 km l'attivo in questo bellissimo blu ottaglio di carrozzeria. Andiamo a scoprirla insieme, naturalmente la vettura full option, troviamo tutti i nostri sensori di parcheggio anteriori che ci agevoleranno alla manovra, bellissimi le tensioni che vanno ad impreziosire il nostro frontale. frontale dotato di gruppo ottico completamente a led. Per quanto riguarda i nostri cerchi sono da 19 pollici completamente black che danno questo effetto ancora più potente alla nostra fiancata. Intinta naturalmente con le carottine e con la bordatura dei nostri cristalli, cristalli posteriori oscurati naturalmente e andiamo direttamente a fare un focus sul posteriore dove andiamo a trovare ancora una volta i nostri sensori di parcheggio che ci agevoleranno nella nostra manovra e la nostra retrocamera per aiutarci ulteriormente nelle manovra. Per quanto riguarda il bagagliaio, molto capiente, con pianale rigido, 1.157 litri abbattendo la panca posteriore e 341 come lo vediamo adesso. Sottostante troveremo il kit di riparazione gomme, naturalmente le panche posteriore sono abbattibili, cappelliera estraibile, luce di servizio sulla nostra sinistra. Ora scopriamo insieme gli interni. Interni Premium è una vettura veramente eccezionale. Alcantara sulle due sedute laterali utilizzate di ganci Isofix con cuciture rossa risalto che impreziosiscono ulteriormente la nostra vettura. Seduto centrale naturalmente in pelle, remind dell'aria condizionata e ingresso per quanto riguarda la collegamento del nostro smartphone. Cristalli elettrici anteriore e posteriori, ora scopriamo gli interni anteriori sportivi. Eccoci direttamente a bordo, bellissime le sedute con l'ultimo pezzettino naturalmente estendibile. Ancora una volta riprendiamo l'alcantara mista alla nostra pelle con le cuciture a risalto. Bracciolino centrale molto comodo, porta oggetti con pozzetto dove troveremo dentro anche i nostri ingressi. Poggiolino naturalmente per la gestione del nostro pad che andrà direttamente in attivo, direttamente sui nostri monitor che sono un tutt'uno. Naturalmente è un cruscotto completamente digitale, parliamo di una vettura full optional, quindi troveremo tutti i nostri comandi vocali per la connessione del cellulare e dello smartphone nella parte di destra, limitatore e cruise control nella parte di sinistra, naturalmente con antitamponamento e cruise control adattativo. Pad al volante per poter avere più switch direttamente, altrimenti il cambio automatico naturalmente è posizionato qua alla mia destra. Abbiamento senza chiavi, il nostro cruscotto digitale avrà disponibile anche tutto il navigatore incorporato che ci darà informazioni dirette sul traffico. Per quanto riguarda il freno e stazionamento lo troverete alla vostra sinistra, naturalmente elettronico, automatici, naturalmente sia i cristalli sia le nostre luci. Direi che è una vettura che si presenta da sola. Consumi bassissimi grazie al fattore ibrido di questa vettura, di questa Mercedes, viene a scoprirla in contragonsegno.it sullattis.com